Hanno perso la traccia del sentiero durante la discesa nella valle di San Liberale a Pieve del Grappa giovedì pomeriggio i quattro giovani escursionisti, una coppia di padovani di San Martino di Lupari e una coppia di Castelfranco Veneto salvati dagli uomini del soccorso alpino. Nel loro cammino tra i boschi, in un tratto ripido, una delle ragazze è caduta in una scarpata. Complici calzature inadatte in esperienza, in tre non sono più riusciti a risalire. Grazie alle coordinate del punto dove si trovavano, i quattro sono stati raggiunti con l'elicottero di treviso emergenza. I due ragazzi soccorsi e portati sul sentiero sono poi tornati al parcheggio a piedi, le due ragazze invece sono state portate a valle con l'elicottero.